Adesso, come vi avevamo annunciato, vi presentiamo il nostro ospite. Questa mattina ci è venuto a trovare Emanuele Casto. Buongiorno. Buongiorno. È un cantante, musicista italiano notissimo, però che ha anche un'altra passione, quella del game design. Esattamente. E questa mattina ci è venuto a raccontare del suo ultimo progetto, appunto appena realizzato, un gioco da tavolo, un board game, che si chiama Beach & Witch. Witch & Witch, per la precisione, ma il concetto è quello. Sì. Esatto, sì, come dicevi tu, è in realtà il mio secondo progetto, insomma abbastanza importante per quanto riguarda il game design, perché qualche anno fa pubblicai il mio primo gioco, titolato Squillo, che fece un certo scalpore, e divenne poi anche un best seller. E adesso invece ho riprovato con un esperimento un po' diverso, ma che nasce sempre da una mia idea. È un gioco, come dico io, a cui vorrei giocare io. E in effetti ci ho giocato tantissimo sviluppandolo. è stato protagonista di un crowdfunding, che è andato molto bene, e al gioco sta arrivando adesso nei negozi, sta arrivando alle persone che non hanno acquistato, i feedback sono molto buoni, quindi sono entusiasta di questo progetto. Certamente uno dei punti di forza è che, in un mercato dove ci sono tantissimi board game, che magari si assomigliano anche di genere, questo gioca anche un pochino sulla satira. È possibile fare ironia con un gioco da tavolo? Assolutamente sì, assolutamente sì. Rispetto ad altre mie produzioni non ci sono contenuti espliciti, però il contesto umoristico c'è, e che potremmo definire, insomma, tra la parodia e la satira. Perché? Il tema di base è la magia, quindi con riferimenti, non lo so, a Harry Potter, Sailor Moon, fra l'altro il gioco è illustrato dall'illustratore ufficiale del merchandising di Sailor Moon. Però, come dicevo, il contesto umoristico, i nemici contro cui le streghe protagoniste del gioco si devono battere sono, insomma, gli aspetti più grotteschi, più brutti della nostra società. Quindi ho messo proprio quelle tipologie di persone che io non sopporto, insomma, da omofobi, fanatici e quant'altro. E anche i boss finali presentano un sacco di riferimenti all'attualità, alla società. Ad esempio ce n'è uno perché gli scenari sono molto diversi, in cui i giocatori possono o combattere fra di loro o allearsi contro un nemico comune o esserci un traditore, come in questo che si chiama la vendetta di Vanna, in cui fondamentalmente i giocatori devono fermare questa criminale, crudele, televenditrice, dove uno dei giocatori scoprirà di esserne in realtà la figlia, quindi, alleata con lei. Insomma, quindi, voglio dire, hai giocato moltissimo sull'ironia, è un po' come se, non so, Harry Potter finisse a genderbender, più o meno, insomma. Sì, potremmo dire così. Ascolta, e adesso dove lo potremo trovare? È già in vendita? Assolutamente, sta arrivando ora nei negozi e parte uno store tour, come si definisce, che toccherà varie città, Firenze, Milano, Trieste, Torino. Naturalmente Bologna, immagino. Non è stata ancora annunciata Bologna, ma assolutamente ci sarà, quindi incontri con il pubblico e lì il gioco ci sarà, ma poi verrà proprio distribuito nelle ludoteche, può essere ordinato sul sito dell'African Chic, che produce il gioco, quindi assolutamente averlo non è un problema. Senti, invece l'altra tua attività, quella per cui sei conosciuto artista e musicista, come sta andando? Cioè, stai lavorando un nuovo disco? Esatto, l'ultimo disco, The Pink Album, è uscito alla fine del 2015, e ne è seguito un tour molto lungo, insomma, di più di 30 date, molto bello. e per la fine di quest'anno doveva uscire un nuovo album, ma ho deciso di prendermi più tempo per lavorarlo in modo ancora più soddisfacente, quindi si parla dell'inizio dell'anno prossimo e ne seguirà un tour. Il primo appuntamento grosso con il pubblico sarà sicuramente Luca Comics & Games, dove c'era questo gioco, altre novità, il nuovo capitolo di Squillo. Sì, che lo ricordiamo un po' la Kermesse più importante d'Italia, fra le più grosse d'Europa per quanto riguarda l'Italia. Assolutamente, è un'esperienza per gamer, nerd, appassionati di fumetto, un'esperienza unica in Italia. Però mi dicevi che il disco nuovo avrà dei contenuti un po' meno goliardici, insomma... Sì, è così, è così. Allora, rimane il taglio fortemente personale, una visione così anticonformista, la voglia di dire le cose come stanno e di esprimere il mio pensiero senza preoccuparmi del politicamente corretto. Però rispetto ad alcune mie produzioni precedenti sarà un po' meno goliardico. Non voglio dire più serio, perché ho trattato temi molto seri, però lo facevo insomma con ironia, sarcasmo, in questo caso invece con un approccio magari un po' più emotivo. Bene, ringraziamo Emmanuel Casto, in bocca al lupo per Witch & Beach, che sicuramente ti auguriamo tutto il successo possibile, non vediamo l'ora di giocarci. Grazie. Grazie.